Ciao ragazzi, bentornati, i capelli mi stanno crescendo, si stanno anche scurendo Comunque, sotto questo grigio di Bergamo è tempo di sfida Finalmente abbiamo dei bei palloni, abbiamo un bel campo Quindi non ci sono alibi, non ci sono scuse La sfida oggi sarà speciale perché sarà J. Pata contro due giocatori fenomenali Gilbert Nanà, il principe del campo Eccolo qui, bentornato, bentornato E il tuo compagno di squadra in questa sfida Gabriel Desta Direttamente da Palermo Forza Palermo! Allora, oggi ragazzi facciamo una sfida nuova sul mio canale Perché io non ho mai sfidato due giocatori così interessanti E una squadra comunque vuole un team nuovo, no? Quindi sarà un 2 contro 1 Spieghiamo ai ragazzi come sarà strutturata la sfida Però nel frattempo presentiamo il portiere ufficiale di questa sfida Signori! Non so come si chiama io Oh no, ricominciamo Ancora qui! Bello il piccione là sopra Dove? Dove è il piccione? Non insultare il Palermo, non insultare Partiamo subito col botto Tiri in movimento Controllo e tiro Quindi ce la passerà lui Faremo 5 tiri per squadra Quindi 5 tiri io e 5 tiri per voi Gestitevela Gestitevela voi O volete fare 6 così 3 e 3 6, 6 Giusto 3 e 3 Così potete fare Iniziamo subito Scrivete nei commenti Chi sono i prossimi due che vorreste come avversari DJ Pata E chi vincerà la sfida secondo voi? E' tutto pronto? Completamente affreddo tutti e due Tutti e tre Va bene così Però il mio momento è positivo in questo periodo Vedremo Lo stop Parte lui Alta Devo abituarmi al pallone Devo abituarmi al pallone E' nuovo E' nuovo Tutto nuovo oggi E' attenzione Mi schierano lui E' passato tempo C'è quello dietro? Vedremo Oddio 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 Bello 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 No E' giusto così E' giusto così E' giusto così No E' giusto così No E' rimaniamo sullo 0 a 0 Ho paura del principe Bravo Ragna Terzo tiro Vedremo la risposta nooo questo è il controtempo l'avevo guardato io eh io l'ho guardato non la testa dopo la traversa molto bene si è caduta bomba su non c'era che qua si è caduta davanti oddio l'ho voluta far rimbalzare davanti nooo bravo bravo no 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 non vado a beffeggiare no fosse stata in porta sarebbe stato buono è tutto nelle mani del principe del cameroon lo stop due volte e andiamo cazzo prima sfida se la porta a casa giappa va bene va bene va bene è stato bravo porta a casa io ma la prossima sfida noi vinciamo ok seconda sfida tiri da ferme qua voglio vederti perchè qua c'è qualità questa volta e tiro là fuori al nome di due braccia molto bene eccolo lì eccolo lì gilberto 1 a 0 tocca a gilberto e andiamo vai di nuovo al min due su due di nuovo lì gilberto è l'angolino io ho il missile lì oddio mamma mia la maledetta no un po' sbagliato io beh la maledetta terzo tiro no mamma che brutto no no purtroppo devo rimediare l'errore di prima rimedi allora quarto tiro sempre 2 a 1 dottori e stavolta no e stavolta la rimedia no stavo andando dall'altra parte avete visto eh stato bravo a fare il contromovimento dottore molto bene no di nuovo ho provato il tiro da david luis la palla così mi spiace ho vinto anche questa ma voglio chiuderla bene mamma mia 2 a 0 ma mancano due sfide ragazzi quella più bella e quella più bellissima quindi iniziamo la terza sfida calci di rigore sei rigori per squadra quindi voi gestite di voi e io sei inizio io 2 a 0 per me la sfida e stavolta c'è attenzione come junior leva il peso attenzione attenzione eh sì è il principe del camerun non ci sì sì bravo 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 che fottuna normalmente il secondo di vengare è stato lì è la strega è la strega è la strega vai 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 bello questo col corpo io ho detto vai di là e l'ho chiuso ragazzi testa la risposta yeah scena la pressione con le mani sul capo no eh no nooo ero sicuro entrasse infatti troppo già da così prende questo prende questo oh se la prende va allo nooo 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 se prende questo nooo vuole fai la cuccaia eh cuccaia cuccaia casa dillo in camera cosa volevi fare vuole fai la cuccaia ragazzi un po' di cuccaia se lui prende questo va all'ospedale capito ha segnato la testa deve segnare per forza il peso del caccio di riguardo agli 11 metri il sorriso amaro nilalà wow bello capri forza palermo sempre per mio fratello bettello al titolo del palermo nooo lo sappiamo lo sappiamo dai attenzione no no attenzione perché se sbaglia il terzo di fila no 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 finito la cazzata finito la cazzata penso che si ritira il calcio giocato per sempre è l'abisso totale se sbagli eh si già è abbastanza buio attenzione lana nooo 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 e andiamo non è possibile 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 raga raga stiamo scherzando raga raga questo quello che si chiama bonus digli che non scherzi più quello che si chiama bonus io fai cinque tiri rigole se lui prende o una vinto tutto dobbiamo fare bonus dobbiamo fare pieno questo è bonus della video un gol ti do te fai gol pareggi e ce la giochiamo all'ultima tre tiri tre tiri non ho anche tre tiri uno ne hai se vuoi solo uno tutte le sfide finisco così va bene vai ragazzi stiamo scherzando tiri con questo no 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 si si devi tirare con questo ok 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 se dice forza palermo è sicuro non sbagliare si è pronto guarda che ti va di traverso tutto il cibo di oggi eh uno vai vai te ne faccio fare tre vai vai lanà facciamo come le giostre tira ancora vai tira ancora stiamo scherzando stiamo scherzando un altro vai vai lanà attenzione attenzione no 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 ragazzi più sbaglio più le gente commenta è scasso ecco questo è così l'ha fatto per me un amico è una grande sfida che propongo ai compagni due contro uno in azione lui e lui contro di te ah voi due contro di me ma questo qua mi ammazza guardate quanto è grosso vuoi due contro di lui eh è l'ultima opportunità eh hai perso tre sfide almeno questa vince due contro uno guarda quanto penso rispetto a te è fuori gioco eh oh no no niente fuori gioco eh vabbè attenzione guardalo testa mi provo a puntare l'appoggio guarda la guarda la guarda la non mollo fai fai eh ma c'è lui eh lo so grazie attenzione attenzione c'ha pallaggio di pata attenzione pata 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 No, bravo! Bravo Gaby! Bravo Gaby! Al punto Ananà! Non ci credo! Stavo facendo un miracolo! Le giochette sono finito! Ananà però deve ancora vincere! L'allenamento di Jay Pata per il pallone d'oro! No! Arrivo! Molto piede! Scusa Gaby! Eh vabbè! Ti ha salvato un miracolo! A un metro! Ma di che già ho toccato la palma? Punto! Siniste! Bravo! Devo giocare all'Inter! Dai dai! No! No, no! No, no! No, no! Pala e mezzo! Troppe e segna! Cavallo, no! Segna! Segna! E' finito e l'ha giocato! Forza! Signori con un pallonetto capolavoro! Finisce la sfida! Allora ragazzi! La sfida è finita 3 a 1 però eh! Si posso rifare! I due contro uno mi hanno ammazzato! Va beh lui va beh! E' d'acciaio sto uomo! Non lo so se sognavo quando erano bambini! Per avere un giocatore di questo classico! Avete visto la qualità di gol ragazzi? Stiamo scherzando! Uno viene della Germania! Qui puoi scherzare! Il giocatore ragazzi! Ringraziamo i miei fratelli! Gilbertrano, Gabriele Testa e Ragnar Gk! Ragazzi! Fate volare Pata! Oh ci penserà Nanà! Detto questo! Da Gpata è tutto ragazzi! Un saluto! Io vado a dormire con Gilbert! Grazie!